Un secondo successo con la prospettiva storica della qualificazione tra le prime quattro della Coppa Italiana Under-20. La molisana Magnoia Campobasso arriva quarta nella classifica generale della prima fase alla Kermes che terminerà domani a Battipaglia e si guadagna la semifinale contro il San Martino di Lupari, con la grande prospettiva, comunque finirà la competizione, di essere una tra le prime quattro formazioni dell'otto. Nella gara del venerdì, intanto, è arrivato l'Esploat contro Salerno, di fronte alle campane, dopo un primo quarto in equilibrio ed anche un secondo periodo tirato, con tanto di vantaggio salernitano, e il terzo quarto che definisce totalmente l'inerzia della contesa, e poi, nel quarto periodo, le rosso-blu vanno di conserva, sino al più 19 finale del 59-40.